ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi faccio vedere qui questo nuovo film è arrivato in super 8 vedete paura in città con silvia donosio fausto tozzi gianfilippo craccano giovanni elzer mario novelli franco ressel e lana turchi regia di giuseppe rosati roma film integrale in 5 bobine 180 metri questa è la copertina del disco dei film adoro questi film in super 8 ragazzi altro film che dovrò vedere paura in città andiamo a vedere le pellicole ecco qua si apre in questo modo e qui ci sono le pellicole del film molto belle e niente ragazzi mettete mi piace commentate e iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti